Musica Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Sono qua per registrare un video sempre a collaborazione bar recensione però di un'altra marca questa volta parlo della Lucky Fox e vedete già qua lo scatolone scatolone è piccolino oggi vi parlo della Lucky Fox che è appunto una marca brand che produce prodotti esclusivamente per gli zoccoli è distribuita da Franco Volpi che è un maniscalco quindi si intende di queste cose prima volevo dirvi che come sempre vi lascio qua giù nell'info box nel box informazioni tutte le loro info dove potete trovarli, il loro sito tutto insieme ai prodotti mi sono stati dati un po' di sticker e sono bellissimi c'è questo slogan che è proprio top allora partirei dal Black Smith Oil che è appunto l'olio per gli zoccoli è realizzato con ingredienti vegetali ed è ideale per idratare e igienizzare lo zoccolo anche quando è secco lo nutre è fantastico oltre a nutrirlo fa anche una barriera naturale contro gli agenti esterni quindi top metterò i primi piani poi è quello con la confezione gialla e ovviamente qua si svita ed è anche con pennello incluso tutte le tre confezioni sono così e questo vedete questi due pezzettini di plastica fanno sì che ci sia una chiusura bloccata quando chiudete il vostro olio così che non che non si rovesci è fantastico il secondo prodotto non lo so pronunciare Erbaltar Erbaltar ed è appunto un catrame vegetale garantisce una protezione sulla muraia dello zoccolo soprattutto in estate quando fate tante volte la doccia al vostro cavallo è un igienizzante anche questo è consigliato soprattutto agli allevatori ai mani scalchi ok ho abbassato un po' la luce in pratica questo che ha la confezione verde io l'avevo preso un po' di tempo fa tipo uno o due annetti fa nella scelleria del mio maneggio e appunto so già di cosa parlo infatti lo utilizzo soprattutto in estate questo prodotto ed è fantastico bisogna lasciarlo asciugare un minuto due dipende quanto ne avete messo sullo zoccolo prima di cioè dovete aspettare un attimo che si asciughi in pratica anche questo ha il suo pennellino fantastico sempre stesso metodo di chiusura e poi ha un profumo buonissimo cioè voi pensate catrame avrà puzza no? invece no ha un profumo buonissimo questo catrame è fantastico l'ultimo prodotto è un SOS frog questo qua con la confezione azzurra e questo in particolare è un igienizzante per quando il fettone del vostro cavallo è marcio oppure ha avuto dei problemi questo è fantastico la parte più importante del cavallo sono gli zoccoli da lì parte tutto e curateli bene come meglio potete anche se non avete tempo di pulirlo almeno fate qualcosa agli zoccoli perché sono importantissimi e con uno di questi tre prodotti potrete migliorare la vita del vostro cavallo spero che questo video vi sia piaciuto fatemi sapere se conoscevate già la marca della Lucky Fox se sì allora commentate col vostro prodotto preferito invece se non la conoscevate commentate con il prodotto che vorreste provare ok vi incuriosisce di più ringrazio ancora questa azienda per avermi mandato su questi prodotti da recensire e niente ci vediamo al prossimo video